1620 coperte di lana, un tappeto colorato sul mattonato di Piazza Grande. Insomma, un colpo d'occhio ancora una volta, unico quello realizzato per la seconda edizione dell'evento biennale Magno e Cuore per il Calcit. Questa iniziativa è nata nel periodo del Covid, subito dopo il periodo del Covid, perché avevamo una gran voglia di ripartire, di rimetterci un po' alla prova. È nata da un gruppo di tre donne di Laterina, dei collaboratori Calcit e di Laterina. Abbiamo fatto questa proposta al presidente del Calcit, Sassoli, che lui l'ha ben accettata. Abbiamo coinvolto tantissime persone, è partita un po' per scherzo e realmente si è proprio allargata a macchia d'olio. Sono intervenuti i ragazzi delle scuole per disegnare le buste dove verranno messe queste copertine. Ogni copertina ha un costo di 35 euro. Per due anni a lavoro e ferrio all'uncinetto centinaia di donne, ma non solo. Alcune coperte sono state donate dagli ospiti della Casa Pia e dalla Proloco di Castiglion Fibocchi. È un evento che è andato anche sul sociale perché ha coinvolto i ragazzi speciali, ha coinvolto, come ho detto prima, le scuole per dipingere le buste, ha coinvolto tante persone anziane e tanti ragazzi giovani. E quindi noi siamo estremamente felici non solo del risultato che verrà sicuramente fatto a livello economico, che poi servirà per sostenere il reparto senologia dell'ospedale San Donato di Arezzo, ma perché va proprio preso una piega sociale, diciamo, anche come aiuto e compagnia nei momenti di solitudine e non solo. Quindi noi siamo estremamente felici di questo progetto che vedo che piace molto. E poi colora la bella piazza che è estremamente già bella di Persema, con queste copertine è meravigliosa. In piazza grande anche l'energia di Zia Caterina col suo taxi della solidarietà per aiutare il calci.